Inaugurato il nuovo showroom di Villeroy & Boc, Hotel & Restaurant Division, nello stabilimento di Passirano, in provincia di Brescia, all'interno della sede di Broggi 1818, storica azienda italiana di posateria di alta qualità che distribuisce in Italia il marchio lussemburghese. Un evento speciale che ha visto l'eccezionale presenza di Nicolas Luc Villeroy, titolare dell'azienda e responsabile del settore arti della tavola. Hanno partecipato all'inaugurazione gli chef Claudio Sadler dell'omonimo ristorante Milano, Massimo Spiegaroli dell'antica corte Pallavicina di Polesine Parmense, Marco Sacco del piccolo lago di Verbania e Andrea Aprea del VUN al Parc Hayat di Milano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.